Musica Bentornato Guter, bentornata Terminiamo la descrizione della masterizzazione Avrai già masterizzato qualche disco Ora proviamo a fare un'immagine Che cosa vuol dire fare un'immagine? Creare un'immagine? Ne avrai sicuramente sentito parlare Ti confesso che la prima volta che ho percepito il suono di questa parola Quindi creare un file immagine associato ad un disco Ho faticato a relazionare le due cose Non riuscivo a comprenderne il senso In quanto avevo difficoltà a relazionare la parola file Collegata ad immagine Non riuscivo a correlarle Il file immagine in questione riferito ad un disco Tutto sommato rappresenta un singolo file Che viene memorizzato sul disco rigido Il quale contiene tutte le informazioni dei dati Che dovranno essere masterizzati in seguito su un disco Il processo è bidirezionale Mi spiego meglio Se possiedi un file immagine Tale file può essere trascritto su un disco Al contrario Da un disco con dei dati ad esempio un programma, dei documenti, dei video eccetera È possibile creare un file immagine dello stesso Da conservare come copia di backup Al suo interno, quindi all'interno del file immagine È presente tutto il contenuto della fonte Che in questo caso è proprio il supporto ottico Quindi proviene dal supporto ottico Potresti chiederti Ma che senso ha conservare un file immagine La risposta è che potrai creare n copie del disco stesso Come fosse una copia di sicurezza Ma, attenzione, in questo caso A creare file immagine di supporti contenenti dati coperti da diritti d'autore La risposta principale che, quando l'ho scoperto Mi sono detto Ma quanti dischi ho sprecato Ma subito dopo ho detto Mai più ne sprecherò È quella che, una volta che hai creato un file immagine Lo potrai esplorare con dei programmi dedicati Ma testarne il contenuto Come puoi farlo? Con un lettore virtuale Eccola la risposta Hai presente un lettore CDDVT del tuo computer? Beh, un artificio software Che permette di ingannare Prendere in giro il computer Simulando la presenza di uno o più lettori Sì, proprio così Uno o più lettori Potrai creare quindi Un numero sulla carta indefinito di lettori Che potrai in seguito esplorare Da Esplora Risorse Quindi sai bene cosa farne di questi lettori O no Nelle impostazioni all'interno del programma Si usa il termine montare o smontare Potrai montare il file immagine Ossia caricarne il contenuto Trasferirlo al suo interno In modo da poterlo consultare liberamente Aprendo Esplora Risorse Come se tu avessi un CD o un DVD reale E lo inserissi all'interno del tuo lettore Potrai accedere al contenuto del file immagine Grazie proprio al lettore virtuale Poi, in base alla categoria del file Al tipo del file Se avrai installato i programmi dedicati Avrai l'opportunità di aprire E visionare tutti i file in esso contenuti Addirittura se fosse un file avviabile In inglese bootable Lo potrai anche utilizzare all'interno di una macchina virtuale Per poterlo testare Come ad esempio l'installazione di un sistema operativo Prima di installarlo realmente all'interno del tuo computer Grandioso vero? E una macchina virtuale in azione L'hai già visionata Se non ricordi trova a vedere i video didattici Relativi alle lezioni 54, 55 e 56 Dove è evidenziata proprio l'installazione del sistema operativo All'interno di una macchina virtuale Troverai infatti descritta l'installazione di Windows 7 Grazie all'uso di un programma Che è integrato all'interno di Windows 7 proprio Chiamato Microsoft Virtual PC Sarà in grado di creare una macchina virtuale E potrà lavorare Accedendo tra le altre cose Proprio ad un file immagine Contenenti i file di installazioni Del sistema operativo Come abbiamo detto Fosse un DVD fisico Quali programmi potrai utilizzare? Come ho descritto in precedenza In base alle tue necessità Direi come punto di partenza Di rivolgerti a programmi gratuiti A meno di necessità particolari Che quindi andrai a ricercare nello specifico Certamente avrai sentito parlare Di programmi molto performanti ed efficaci Dal nome un po' colorato Ma senza nulla togliere Alla professionalità di tali software Mi allontanerei dall'acquisto O dal loro uso Anche in caso di acquisizione alternativa Questo perché Più operazioni sono in grado Di eseguire i programmi E per forza di cose Più pesante sarà il programma stesso E quindi maggior risorse Priverà al tuo computer Alcuni programmi Sono in grado di eseguire Talmente tante funzioni Che quasi il processo di masterizzazione È la loro secondaria missione A questo punto direi La semplicità La fa da padrone Devo masterizzare? Allora acquisisco Un programma di masterizzazione Scegliendo Quello che mi dia Le funzioni Che maggiormente utilizzo Esiste poi Il valore aggiunto Che alcuni di questi programmi Di masterizzazione Non necessitano L'installazione All'interno del sistema operativo In inglese Standalone Lo scarichi Lo copi Lo incolli Su una tua pendrive O sul tuo disco rigido Ne regoli le opzioni In base alle tue esigenze E lo utilizzi Su tutti i computer Dotati di un masterizzatore Ecco quindi Per renderti cosciente Una piccola lista di operazioni Che probabilmente Ti troverai ad eseguire Nella masterizzazione Nel corso dell'utilizzo Del tuo computer Avrai la necessità Di creare un file Immagine da disco Come abbiamo appena accennato Avrai la necessità Di creare Delle compilation Di dati Documenti Foto MP3 O video Presentazione E mail E così via Avrai la necessità Di creare cd o dvd audio Avrai la necessità Di creare cd o dvd video Oppure copiare Il contenuto Di un disco Su un altro disco O cancellare un disco Bene Queste sono le maggiori operazioni Che eseguirai Nell'arco della tua vita E per qualche utente Anche più del necessario Allora detto questo Perché cercare programmi complessi Quando molti altri Offrono semplicità Azioni intuitive Leggerezza Versatilità E per di più In formato gratuito Eccoti allora Una piccolissima lista Di programmi Che eseguono Le funzioni Appena evidenziate Il programma Che ad oggi Maggiormente utilizzo È cdBurnerXP Oppure un altro InfraRecorder O BarnAware O BarnForFree Infine Free cddvdBurner Ma guarda Che la lista È interminabile Bene Andiamo a vedere Come utilizzare Un file immagine All'interno di questa partizione Ho creato Un file immagine Di prova Al cui interno Ci sono dei file Per poter utilizzare Un file immagine E quindi visionarlo Come detto Devo avere Un lettore virtuale Ho scaricato Un programma Che permette La creazione Di lettori virtuali Quindi installiamolo Come prima cosa Clicchiamo pure Due volte Rapidamente Sull'eseguibile E installiamo Questo lettore virtuale Questa è la prima Schermata Di benvenuto Clicchiamo pure Su next Su avanti E in sequenza Fino a Raggiungere La schermata Finale Dell'installazione A volte Potresti avere Una notifica Che ti indica Che il software Che sta installando Non ha fornito Una firma digitale Quindi in linea Del tutto teorica Potrebbe danneggiare Il computer Ma in questo caso Accettiamo Di buon grado L'installazione Del software L'installazione Del programma È andata A buon fine Clicchiamo pure Su finish Come puoi vedere In basso a destra Si è creata Una nuova Icona Che è proprio Quella del programma Che sto utilizzando Cliccando con il Tasto destro del mouse Con il pulsante destro del mouse Sull'icona stessa Si genera un menu Dalla prima sezione Potrai montare O smontare Un file immagine Dalla seconda sezione Set number of drivers Potrai selezionare Il numero Di driver Quindi il numero Di lettori Che potrai installare Noi clicchiamo Sulla prima sezione Andiamo a caricarci Quindi montare Il file Che abbiamo Precedentemente Creato L'immagine di prova Si aprirà infatti Esplorare risorse E andremo a Visionare Proprio Il file immagine Come puoi vedere In questo caso È nato Un nuovo lettore In visione All'interno di Esplorare risorse Che presenterà Il contenuto Del file immagine Quindi potrai Visionarlo E avviarlo Come nel caso Di queste Che sono Delle foto Se hai installato Un programma Predefinito Potrai Visionare Anche Questo file In quanto è Un video Di una lezione Precedentemente Memorizzata Oppure avviare Il programma Che ho inserito All'interno Di questo File immagine Quindi come puoi Ben vedere L'utilità Di un file Immagine È estrema La creazione Di un file Immagine Invece La rimandiamo Quando descriveremo I programmi Di masterizzazione Bene Nella prossima lezione Continueremo Il percorso didattico Con nuove informazioni Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima I Ciao a presto Grazie a tutti.